Buonasera, ben trovati, nuovo appuntamento con Sport Today, come ogni giorno siamo in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. Buon lunedì sera, buon inizio di settimana. Come di consueto andiamo a riepilogare tutto quello che è accaduto in questo fine settimana sportivo, cominciando dal calcio di Lega Pro con i risultati della venticinquesima nel girone B. Ancona-Cararese 2-1, Forlì-Grosseto 1-1, Lucchese-Spalla 2-0, Pisa-Propiacenza 1-0, Prato-Ascoli 3-1, Reggiana-Pontedera 2-0, San Marino-L'Aquila 3-2, Savona-Gubbio 1-1, Teramo-Sant'Arcangelo 3-2, Lapistoiese vince in casa del tutto cuoio per 2-0. La classifica vede in testa Lascoli con 47 punti a pari merito con il Teramo, seguono la Reggiana con 44, il Pisa con 43, Ancona-L'Aquila 37, Ponte d'Era 35, Grosseto 32, Gubbio-Lucchese e Spall 31, Cararese e Pistoiese 30, Forlì-Prato, Tutto Cuoio 28, Savona 27, Sant'Arcangelo 26, Propriacenza e San Marino chiudono a pagliate. A quota 19 fa rumore il K.O. dell'Ascoli a Prato per 3-1, un K.O. che ha fatto infuriare nel dopo partita anche il tecnico dei bianconeri, mister Petrone, ascoltiamolo. Male, male perché non è giusto per il lavoro che facciamo durante la settimana, i ragazzi lo sanno, non ho visto l'umiltà che avevamo fino a qualche periodo fa, non mi interessa neanche come mai perché si preparano le partite in maniera meticolosa, nei dettagli, sapendo che loro sono tutti destri di piede e quindi gli dobbiamo concedere il sinistro quando si ha l'occasione per andare al tiro e noi gli concediamo sistematicamente il destro di pedalo, vuol dire che i due sono le cose, o non applicano quello che abbiamo fatto giustamente durante la settimana e quindi mancanza di umiltà, mancanza di concentrazione, ma qua parliamo di dettagli stupidi, banali che sono a livello giovanile, quindi non sono né queste le attenzioni per portare a casa le partite, non per vincere i campionati, per portare a casa le partite e non è neanche questo l'atteggiamento per uscire da una situazione dove noi sono 15 giorni che stiamo lavorando sul partire da subito a 100 all'ora, sull'acceleratore, cercando di fare le nostre giocate senza aspettare lo schiaffo e sistematicamente per la terza volta è capitato, poi come domenica scorsa l'atteggiamento è stato un atteggiamento diverso, oggi non è stato lo stesso perché la settimana scorsa eravamo 10 contro 11 ma si vedeva realmente l'attenzione su tutte le situazioni che oggi sono mancate, per vincere le partite ci vuole quello che abbiamo messo in campo domenica scorsa, ma poi l'umiltà e la concentrazione, la determinazione e la cartiglia agonistica che ci ha contraddistinto fino a qualche periodo fa. Tutt'altro clima invece in casa Ancona, Ancona vittoriosa 2-1 ieri contro la Cararese al Del Conero, primo tempo spettacolo, secondo tempo in sofferenza, rivediamo tutto con le immagini. Bella e spettacolare nel primo tempo, in sofferenza nella ripresa, eppure la vittoria arriva lo stesso e l'Ancona torna ad esultare dopo un mese al Conero. Cade la Cararese 2-1 che ha avuto il merito di tenere vivo un match che i biancorossi hanno dominato complicandosi la vita. Terzo successo nelle ultime quattro partite in casa, un macigno sulla salvezza e un trampolino verso il quinto posto, agganciata l'Aquila. C'è da spellarsi le mani nei primi 45 minuti, Cornachini butta dentro i suoi magnifici quattro che incantano. Dopo 10 minuti Dorici già in vantaggio, cross di Parodi dalla destra, Tavarese anticipa Calderoni in uscita sul primo palo, palla all'angolino e settimo centro per il portoghese, sempre più cannoniere biancorosso. Gli ospiti sfiorano il pari con una rovesciata di Cellini che finisce di pochissimo sul fondo, ma è dietro che la squadra di Remondina soffre maledettamente. Al diciassettesimo Tavares vola verso l'area avversaria, Tesolo stende al limite, fallo da ultimo uomo, rosso diretto e Carrarese in dieci. L'Ancona vuole uccidere la gara, Bondi con un sinistro al volo va vicinissimo al raddoppio. Poi al venticinquesimo si procura il calcio di rigore del 2-0, fuga sulla destra, fallo di Lancini, direttore di gara che non ha dubbi. Potente il destro con cui Paponi trasforma quarto centro in stagione per l'attaccante Anconetano che, fatto il pieno di fiducia, al trentunesimo prova anche una rovesciata al volo che Calderoni para senza problemi. Nel finale di primo tempo numero di Tulli sulla linea di fondo e sinistro in porta, Calderoni è pronto e smanaccia in angolo. Non c'è partita quando le due formazioni vanno negli spogliatoi, nel secondo tempo l'Ancona ha il demerito di specchiarsi un po' troppo e cala l'intensità del gioco. Al ventinovesimo il 3-0 sembra cosa fatta, piattone di Paoli che dal limite vuole piazzare un rimorchio di Cognini, il pallone fa la barba al palo. Al trentatresimo i biancorossi prendono gol in contropiede, disimpegno così così di Mallus e Cellini può involarsi verso l'Ori, diagonale angolato e gara riaperta. Poi gli ospiti non hanno più forza per l'arrembaggio e nel finale l'Ancona conduce in porto una vittoria meritata. In fondo con un po' di drilling tutto è più emozionante. Questa sera alle 21.30 il solito appuntamento in diretta con Serata Biancorossa, ospiti in studio del centrocampista Luca Parodi a seguire la differita integrale della gara di ieri Ancona-Carrarese. Scendiamo adesso nel girone F del campionato di Serie D dove si è giocata La ventiduesima di campionato, Castelfidardo Amiternina 1-0, Chieti Fermana 0-0, Giulianova Termoli 1-1, Maceratese Iesina 1-0, Matelica San Nicolò 0-0, Limpia Agnonese Celano 2-1, Recanatese Fano 1-1, Samba Civitanovese 1-1. A Pesaro il Campobasso vince 1-0. Sulla Vis una classifica che vede la Maceratese in testa con 52 punti, allungare a più 8 il suo vantaggio sulla seconda. Il Fano ferma a quota 44, Samba 41, Campobasso 40, Civitanovese 39, Matelica 38, Chieti 34, San Nicolò 31, La Iesina con 30, Fermana 27, Recanatese 26, Giulianova 24, Amiternina 22, Castelfidardo 21, Limpia Agnonese 19, Termoli 16, Celano e Vispesaro con 14 punti. Domenica dunque pro-Maceratese in assoluto. Complici i pareggi del Fano a Recanati e della Samba contro la Civitanovese. La formazione di Magi scappa via grazie al gol di D'Antoni nel derby contro la Iesina. Rivediamo tutto nelle immagini con il commento di Enrico Scattolini. Signore e signori buonasera, benvenuti all'Alvia Recina per questo derby sempre interessante che rientra nella tradizione del calcio bianco-rosso fra la Maceratese e la Iesina. Presenza non adeguata a mio avviso della De Grazia. De Grazia ha scambiato con Romano. Palo, bella azione della Maceratese. Villanova in mezzo, palla a giro. È detta ancora palo, ancora palo su una conclusione pericolosa per la Maceratese. Vicino a lui qui frulla. vediamo. Palla, bel tiro di Francia. Molto bello incrocio. La palla che sfiora l'incrocio dei pali. Poi la conclusione dalla lunga distanza di D'Antoni. C'è un rimpallo e poi la girata di Couco. D'Antoni intanto per la cronaca continua in perterrito il sibilo del sensore qui in tribuna stampa. Ancora Cordova in mezzo. La conclusione è bella in questa circostanza di D'Antoni. 12 calci d'angolo a zero per dire della pressione della Maceratese. Ma la Iesina. gol! Rete della Maceratese. D'Antoni, D'Antoni su calcio d'angolo. È stato il più lesto di tutto a segnare. È della Maceratese pur non giocando bene. È stata premiata da questa conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo di D'Antoni. Darsi, prova il tiro. È sbaglia. Questa è la misce migrante. La pagina ha qualche sofferenza di concezione, di concetto nel finale. Quelle sono balle che tu devi tenere, far passare il tempo, fatti buttare giù quando sei inchiocato sulle fasce laterali. Va bene. La Maceratese ha battuto la Iesina. In eccellenza invece i risultati della giornata numero 22. Biagianazzaro, Atletico Gallo 0-0. Monticelli, Folgore, Falerone, Montegranaro 1-0. Porto d'Ascoli, Atletico Alma rinviata. Porto Recanati, Corridone 0-0. Trodica, Tolentino 0-0. Urbani, il Montegiorgio vince 2-0. Vigor Senigale, Grotta Mare 1-1. Vismara, Fossombrone 2-1. La classifica con in testa il Vismara con 39 punti. Folgore, Falerone, Montegranaro, Montegiorgio e Tolentino 38. Monticelli 36. 33 punti per l'Atletico Gallo, Biagianazzaro, Grotta Mare, Porto d'Ascoli 29. Corridone a 27. Vigor Senigale a 26. Trodica 25. Atletico Alma e Urbani a 23. Fossombrone 21. Chiude il Porto Recanati con 12 punti. Archiviamo la pagina del calcio per aprire invece quella del basket. La grande domenica della consult invest Pesaro che batte la Grissinbonne. Reggio Emilia a 75-74 grazie a due liberi di Chris Wright con pochi secondi da giocare. Reggio Emilia si mangia le mani a causa di due liberi sbagliati clamorosamente da Drake Diener con Reggio avanti 74-73. La partita si era messa subito sui binari più favorevoli alla squadra dei coach Menetti che ha chiuso il primo quarto avanti 21-13 ma la WL non ha mai mollato. Nei due quarti centrali ha messo la freccia, ha riaperto la gara con un grande Chris Wright e uno scatenato Wally Judge. La partita si è decisa tutta nel quarto quarto con Pesaro che ha avuto la forza di non mollare mai portando a casa due punti d'oro nella corsa salvezza. WL è ora penultima con Caserta a chiudere la classifica di A1. 21 punti di Wright, 16 di Judge con 8 carambole, 11 punti di Raspino, 10 di Ross, 4 più 7 di Laurent. Brutto scivolone senza scuse per la Fileni Iesi in casa contro Mantova. La dinamica Mantova esce vincitrice dal Palatricoli con un parziale netto. 80-53 il finale. I padroni di casa della Fileni sono incappati in una giornata clamorosamente negativa al tiro pagando dunque con questo pesantissimo risultato finale. 13 punti e 7 rimbalzi nelle fila di Iesi per Ivan Elliot. 11 con 5 rimbalzi e 2 stoppate per Michele Mangioli nel dopogara. Il coach Lasi e l'amministratore unico Lardinelli si sono presentati in sala stampa per chiedere pubblicamente scusa ai tifosi arancio-blu per questo brutto KO della Fileni Iesi contro Mantova. Per quello che riguarda il volley torna la vittoria alla Lube nel campionato di Superlega. Una Lube che al Palaci Vitanova stende Milano dopo aver perso il primo set ma poi gli uomini di Giuliani vincono 3-1 18-25, 25-19, 27-25, 25-19 i risultati dei set. Una vittoria un po' sofferta ma che consente alla Lube di rimanere nella scia della Coppa di Vertice confermando e legittimando il terzo posto. Una vittoria come detto arrivata dopo un primo set da dimenticare è ottenuta davanti a 2.720 spettatori un incasso totale di più di 5.000 euro devoluto a sostegno di un progetto per realizzare un nuovo ambulatorio per diagnosi e il follow-up delle cardiopatie congenite infantili presso il reparto di pediatria dell'ospedale di Civitanova Marche. Lube ora a lavoro perché da domani si partirà alla volta della Polonia perché giovedì sera gara di ritorno dei play-off a 12 in Champions League contro lo Skrabelkatov la Lube deve vincere 3-0, 3-1 e poi aggiudicarsi anche l'eventuale golden set per superare il turno in presa molto molto difficile per gli uomini di Giuliani che però si presentano a questo appuntamento forti della vittoria in Superlega contro Milano. Nel campionato di Serie A2 invece arriva la matematica che dice play-off per la Bicam Potenza Piccena che vissa il successo nella semifinale di settimana scorsa nella Coppa Italia di A2 contro Corigliano, Calabresi battuti 3-1 al Palaprincipi e questo consente appunto alla squadra di Graziosi di festeggiare la matematica a certezza del post-season dunque della Prodo nella griglia dei play-off, un traguardo. Ancora una volta importante per la società bianco-blu 3-1 come detto i parziali di una partita vinta dalla Bicam 25-21, 20-25, 25-19 e di nuovo 25-21. Nel femminile sabato sera KO netto senza appelli della ZS Rubino Volli nulla ha potuto sul parquet di Modena contro la Liugio che si è imposta 3-0, 25-20, 25-15, 25-18 i parziali con Urbino che resta ultima in classifica solitaria con 4 punti perché Forlì perso al tie-break contro il Bisonte Firenze sale a quota 5. Ultimo posto da condividere con Caserta per la Lardini-Filottrano qui stiamo parlando del campionato di Serie A2 una Lardini-Filottrano che anche qui si è dimostrata troppo inferiore in confronto alla forza dell'obiettivo Risarcimento Vicenza che vince 3-0 con i parziali di 25-14, 25-21 e addirittura 25-8 un netto crollo della formazione di coach Paniconi ultima con Caserta come detto con 9 punti in classifica. È tutto invece per questa edizione di Sport Day prossimo appuntamento domani il primo come sempre alle 19 in contemporanea su Radio Center Music e su ETV Grazie dell'attenzione e buona serata.